20 nodi, canottiera 10005. Qui abbiamo una canottiera della linea 20 nodi in 100% di puro cotone. Quindi abbiamo questo cotone in jersey. Come facciamo noi a determinare la misura nella nostra tabella taglia? Piliate un vostro intimo, come ho fatto io in questo momento. Andate a misurarlo da lato a lato. In questo caso, questa fa 65 cm, che per due ha una circonferenza di 1,30 m. e corrisponde perfettamente alla taglia 3XL. Come vi dicevo, questa è una canottiera in due varianti di colore, nel nero e nel bianco. Ora, una cosa che mi chiedete spesso, quanto è larga la spallina della canottiera? In questo caso, nella taglia 3XL che ho appena misurato, la spallina è larga 6 cm precise, 6 e qualcosa, 6 cm. La canottiera ha, sulla parte davanti, una scolatura abbastanza profonda, perché nel discorso dell'intimo, in questo caso, deve essere abbastanza profonda, e una lunghezza di intimo abbastanza importante. Considerate che questo manichino ha un'altezza di 1,85 m. Nella parte posteriore, invece, la canottiera, come potete vedere, mettiamo dentro il logo, rimane giusta, quindi non è una canottiera che è scartata molto sulla parte dietro. Un'altra cosa che mi chiedete, quanto è lunga la canottiera? Ora, io vi misuro una taglia 3XL, in questo caso, partendo dalla cucitura dietro al fondo della canottiera, abbiamo una lunghezza di 77 cm nella taglia 3XL. Questa tende a aumentare in base alle taglie, ma è un aumento di 1 cm quasi per taglia, non di più. Che dire, 20 nodi, taglie forti uomorini. Siamo sempre una taglia avanti.